Il prossimo relatore, persona meravigliosa, straordinaria, quando l'ho conosciuto mi sono innamorato perché penso che oltre che curare i pazienti, vedere curare anche l'anima sia una grande privilegio e penso una grande risorsa per chi fa il medico nei confronti dei pazienti, siete d'accordo? E una di queste persone è il dottor Bartolomeo Allegrini. Beh è sempre generoso Giorgio con me, ancora non ho fatto la relazione, e che dire, contenti? Oh che pratio, credi o no, vi ho visto, stavo seduto al primo posto, quindi complimenti. Vi voglio dire solo una cosa, eravamo in 5 a Milano, la prima volta eravamo 5, 2019 eravamo 85 qui, oggi siamo 180 tra tutti, e domani saremo, se vengono tutti, siamo 650, li mettiamo proprio letti a castello, perché dove li metto? Però immaginate che soddisfazione, grazie di cuore di questa grande fiducia e privilegio di condividere questa bella avventura. Allora, è un privilegio stare qui perché io l'anno scorso quando eravamo in Lunigiana parlai dell'importanza dell'S Drive per aver attivato in me qualcosa che già era una memoria potente, che mi riportava agli anni di quando da studente, erano i primi anni 90, ormai alla fine del percorso di laurea, mi sono approcciato alla medicina interna e lì, per una casualità, perché avevo la media del 29, ho dovuto approcciare una tesi sperimentale e mi hanno costretto a fare sette esami complementari e quindi ho dovuto potenziare un enorme sistema che l'essere umano, diciamo galileizzato, che usa il protocollo, che usa il metodo deduttivo, invece non potenzia, che è l'intuizione. Io quando ho incontrato l'S Drive ho potenziato la mia intuizione, come quando l'ho fatto in clinica medica, quando ho compreso che fare quel viaggio che poi mi ha portato a studiare come complementari, grazie a Dio, la semiotica che non si studia in medicina tradizionale. La dietologia, immaginate, si studia come complementari per poter fare una tesi sperimentare. Grazie, ho ringraziato il professore che mi ha dato questa strada, perché io poi della nutrizione ho fatto la mia prima medicina nel mio lavoro, della semiotica attraverso la fisiognomica e il costituzionalismo omeopatico, questo mi ha permesso di entrare nel paziente, di iniziare a usare il più splendido metodo di indagine, che è il metodo aristoteliano, non di galileo, è il metodo induttivo. Ma oggi Giorgio si è superato. Al di là del metodo induttivo che tu attraverso l'S Drive ci hai permesso di sviluppare di più, visto che tutti sappiamo tutte le leggi sulle vitamine, minerali, possiamo studiare, tanto ormai c'è internet, basta mettere un click, no? Dottoressa Quini, non ci vuole niente. Scusate per il microfono, a me era preferibile a un sulfurico, è meglio il perché... Dicevo, non solo Giorgio oggi e domani ci permette di potenziare questo, io vi ho portato qualche caso clinico, ma soprattutto attraverso l'S Drive possiamo ancora di più potenziare un'altra scoperta aristotelica, il metodo dialettico. Il metodo dialettico che in me è stato completamente decurtato durante il periodo del Covid, che ha creato delle barriere fra gli esseri umani, che ancora non abbiamo interrotto. Oggi è una grande opportunità, oggi nelle diversità di espressioni di tanti tecnici di valore, e qui ce ne sono alcuni, e quelli che si sono prima avvicendati lo hanno dimostrato. C'è la possibilità di fare questo nuovo modello di medicina dove l'essere umano deve essere messo al centro. Questo fa la differenza, EIAD, dove è EIAD? Questo fa la differenza rispetto a quello che hai detto tu splendidamente. Noi oggi ci dobbiamo occupare della persona, dobbiamo diventare medici, operatori sanitari dell'essere umano, in primis. State tranquilli, come diceva un mio professore in clinica medica, se penserete di avere di fronte vostro padre e vostra madre, quando visitate vi sbaglierete molto di meno, perché il destino di chi fa questa professione è quello di sbagliare, non quello di fare bene. E oggi ho voluto far compartecipare i nostri pazienti, perché i nostri pazienti fanno parte di un modello di medicina in cui siamo tutti compresi, dove ci mettiamo tutti allo stesso livello, dove se vogliamo veramente operare un cambiamento non possiamo stare più in una proiezione verticale. Il mondo che sta fuori lavora in questa direzione e ci sta dando grossi danni. Noi siamo fortunati perché chi ha scelto questo percorso è perché è riuscito a raccogliere dentro tutta quell'energia che qualcuno sta mandando, che se vi ha fatto trovare pronti è perché c'è bisogno di fare quel cambiamento. Ma mentre quell'energia si entra in un organismo che è in squilibrio, e ce ne sono tanti purtroppo, dottoressa Quini, anche nei bambini, purtroppo porta a gravi distruzioni ed è quello a cui stiamo assistendo a livello umanitario. Scusatemi questa prefazione, ma un uomo di questo spessore se lo merita e penso che anche un applauso può condire questo. Dopodiché passiamo a questi casi e questo è un caso che ho voluto mettere per primo, anche se l'ultimo, cioè io vi ho portato casi clinici che ho svolto negli ultimi due mesi e mezzo. Non vi ho portato materiale vecchio, va bene? E questo è un caso di un ragazzo che si è presentato da me con due anni di un'esperienza disastrosa, due anni di decine e decine visite mediche specialistiche che l'avevano portato ormai a essere disperato, a essere classificata a 24 anni dall'ultimo medico che ha visto un fibromialgico. Questo ragazzo, scusa Giorgio, questo ragazzo è un napoletano costituzione muriatica, quindi sul firmagro, un metro e novanta, iridematogena, iridescura, sanguigna, un ragazzo di un metro e novanta di Udine, in verità trapiantato a Udine, io l'ho visto a Udine, ma napoletano di origine, infatti si chiama Donna Rumma. E perché stava a Udine? Perché due anni fa si è spostato, perché senza lavoro è andato a lavorare nella pizzeria degli zii. che cos'era successo qualche mese prima? Aveva avuto la mononucleosi, ma questo dato, credetemi, non era mai stato valutato da nessuno degli specialisti, ed era un ragazzo che praticamente continuava a brancolare nel buio, finché un giorno si è approcciato e ha detto questa è la mia ultima possibilità in questo studio di agopuntura di Udine, perché ha detto vado a provare l'agopuntura, tanto ormai ho provato di tutto, sono stati vari specialisti, mi hanno detto che sono un fibromialgico, quindi a 24 anni la medicina si era resa e questo ragazzo aveva veramente stanchezza cronica e dolori articolari e muscolari diffusi, non era uno scherzo, io ho visto le sue ricette, volta, rendicloreum, cortisone, altro, a go go, eh? Ebbè, vediamo il suo bulbo, sì, scusa Giorgio, suo bulbo, sintesi proteica, sistema di detossificazione, ahimè, chi è costui per la medicina? Un drenaggio? No. Intestinale e sonno. Ci sono già elementi interessanti in questa prima analisi, poi alcuni cibi dove vedete grano, vedete che poi ritornerà, considerate che questo ragazzo lavorava nella pizzeria dello zio. Categoria al primo posto, vedete, alimenti, poi vitamine, antiossidanti, eh? Passiamo alla pagina. Interessante, vedete il valore di 107. A pagina 3, un ragazzo di 24 anni, non era stato mai eletto come componente ossidativa. E che componente ossidativa? 24 questo, 20 questo. Una completa inversione neurovegetativa e neuroendocrina con uno stato infiammatorio cronico perché viene segnalata, poi vedrete, una post-virosi, e poi vi faccio vedere gli esami che li ho fatto fare. Ok? Guardate la barriera intestinale, ho cercato di semplificarvi le slide in maniera tale che abbiamo, vedete, 35 di valore. 35. zinco e selenio, non solo potenti antiossidanti, non solo regolanti, due dei grandi focus energetici di un giovane muriatico, che sono la tiroide e gli ormoni sessuali. Questa, ricordatevi, è medicina di segnale, non è che vi possono uscire gli ormoni sgocciolanti dal bulbo. Dovete essere bravi e brave voi a estrapolare le informazioni. E quindi, avendo questo tipo di trait, è chiaro che barriera intestinale in un muriatico dove l'intestino tenue, visto che Deborah prima parlava di medicina cinese, è il principio dello yang, dell'elemento fuoco, in un ematogeno come iride. Scusatemi, qua abbiamo tanti elementi e l'altro importante è questo, sonno, ma non perché non dormiva, ma perché non recuperava, perché c'era, domani ci sarà la mia relazione sulla regolazione neuroendocrina e la chiave, il ruolo chiave dell'ossigeno in questo. E quando un soggetto di questa tipologia si presenta a 24 anni con stanchezza cronica, psicofisica, io come omeopata chiaramente ho richiamato la linea cosiddetta luetica, per chi di voi conosce l'omeopatia, la linea florica, quella del terreno senza ossigeno, quella del terreno endovasculitico, no? parlava prima EYAD dell'infiammazione silente. Vedete le interferenze elettromagnetiche? Gli acidi grassi, soprattutto cerebrali, qui c'è una pineale che non risponde agli stimoli, quell'asse di cui parlava Debora prima non è attivato, qua c'è il contrario di quello che ha fatto vedere Debora, dove là c'era l'iperattivazione, qua c'era la completa ipoattivazione, qua c'era lo spegnimento del collegamento fra l'ipotalamo e la ghiandola pineale. Filippo, dottor Bosco, vedi? Nessuno ha letto questo, nessuno. Gli assi di regolazione sono, se noi siamo pnei, se noi siamo sistema, siamo comunque ormoni collegati al sistema immunitario, altrimenti non parliamo di pnei. Psico, neuro, endocrino, immunologia. Domani nella mia relazione vi farò vedere una slide in cui ci sono tutti gli ormoni giovanili, ma non solo quelli diciamo attivatori, ma anche quelli del benessere psichico, fra cui l'ossitocina, che sono attivatori della linea TH1. In questo giovanotto la linea TH1 si è fatta fottere, vedete? C'ha batteri, virus e muffe, funghi. quindi c'è una depressione immunitaria che non è stata letta da nessuno, anzi da qualcuno è stata favorita perché l'immunologo, scusa Giorgio, l'immunologo che poi fa la diagnosi di fibromialgia e che riesce a trovare una fesseria per genetica predisponente di anamosso, a questo ragazzo gli dà l'immunosoppressore. Capito? E per fortuna almeno quello l'ha evitato perché aveva gli esami perfetti e Yad, capito? Questo aveva gli esami perfetti per la medicina ufficiale. E' stata bellissima quella tua relazione per far capire i limiti di un approccio e dell'altro ma noi proprio come dicevo prima attraverso l'S Drive abbiamo una grande potenzialità la potenzialità di poter evocare tante conoscenze integrate che vanno dalla biochimica fino alla bioenergetica e lo possiamo fare soprattutto se facciamo squadra e andare a controbattere quella che si definisce scienza che invece è una pseudoscienza perché si abbandona i nostri figli perché questo è il nostro figlio quando siete integrati all'anima del vostro progetto voi dovete sentire il dolore cosmico è impossibile fare questo lavoro senza questo questo significa fare medicina integrata essere collegati al dolore del prossimo empatia che purtroppo ahimè nei miei colleghi io sono un medico ospedaliero non è che io sono uno che fa io ho dato le dimissioni ieri avantiieri da un RSA tu lo sai Giorgio dove per andare per andare due volte a settimana mi pagavano 2700 euro al mese ok perché mi devo dedicare a questo viaggio perché perché vedete poi dice vabbè facciamo la biochimica e io sono d'accordo con te di fare la biochimica e se è possibile averla già prima questo ragazzo aveva fatto di tutto però non aveva fatto questo scusatemi leggete allora ve lo leggo io ve lo scusate vabbè ho capito pensavo che avevate i binoccoli vabbè scusatemi ho sottovalutato questo aspetto io gli ho richiesto se nella storia di sto ragazzo sta sei mesi prima che inizia questa sintomatologia a 22 anni a 21 anni e mezzo un Epstein bar importante scusate ma avete visto che c'è anche il glutine come nemico grano glutine e questo fa il pizzaiolo cioè capito medicina contestualizzata dove vivi che lavoro fai che ti è successo prima perché hai litigato con la zia hai dormito una settimana fuori casa fra le strade di Udine gli è capitato anche questo a questo ragazzo lontano da Napoli capito allora Epstein bar non è solo quello Rino allora tu devi vedere due cose questo ha attivato tutto ha attivato il citomegalovirus c'ha il VCA 129 ma soprattutto quello che colpisce vedete è l'EA quando avete l'EA così alto le A perché ha l'EBNA già l'EBNA così elevato già vi dice che questo attiva un antigene che viene attivato nella seconda fase della malattia che è l'antigene nucleare quindi produce anticorpi che hanno una reattività crociata verso sette strutture corporee che sono le famose sette malattie le sette sorelle che sono la sclerosi multipla la tiroidite da scimuto il diabete mellito la celiachia la rettocritulcerosa l'artrite psoriasica e il morbo di Crohn qua ci sono gli studi non sono miei sono studi americani fatti sulle riattivazioni ma non essere riusciti a scoprire un Ea così alto vedete 92,3 questa è una riattivazione acuta che chissà da quanto tempo continua comunque al di là delle chiacchiere a me interessa questo lo leggiamo insieme? Salve volevo chiederle è possibile che FM ELAPS è una delle io le ho dato una terapia non la posso dire più qualche giorno dopo le ho messo questo che è un rimedio che lavora sul Lepsen Bar va bene? è un veleno di serpente faccia effetto già dopo due giorni di terapia perché mi sento già meglio io le ho risposto è la terapia che tutte insieme sta facendo effetto erano passati appena quattro giorni dall'inizio una settimana dopo chiaramente il ragazzo si meraviglia di questo risultato gli avevano detto che era fibromialgico mi manda un messaggio scrive salve dottor un'ultima cosa perché mi aveva scritto altre cose tipo dottor ma io che posso mangiare ogni tanto il gluteo ti preoccupare non è quello il problema 24 anni contando sull'aspetto muriatico di ribaltamento no Eugenio del neurovegetativo che tu conosci benissimo no? grazie mille dottor sto già molto meglio sto iniziando a vivere le sarò sempre riconoscente grazie davvero non mi sembra vero dopo due anni che ne soffro un applauso a lui queste sono testimonianze di come una medicina ti ha classificato a 24 anni fibromialgico ma sapete che significa se uno prende internet e va a vedere fibromialgia? un ragazzo di 24 anni? bravissimo secondo caso e questa è colpa sua di Davide è colpa tua perché lui Davide che è bravissimo osteopata biodinamico di Treviglio si trova in vacanza giusto Davide non sto dicendo nessuna bugia si trova in vacanza a fine giugno in Calabria quindi le parti nostre so bene e in Calabria incontra questa signora di Ostuni io sono di Monopoli Pier Giorgio conosce quelle zone mezz'ora di automobile e quindi parlando giusto Davide del più e del meno rispetto alla signora che aveva un problema di salute da circa vent'anni vent'anni o due mesi anche lei fatta le varie chiese le varie parrocchie le varie visite le varie menzogne e ha ragione su molti aspetti di pressappochismo che ci sono nella nostra professione e che non aiutano ad alimentare quell'anima di cui vi ho parlato prima perché per fare questo ci vuole molto studio e molta serietà poi possiamo ridere su tante altre cose ma quando c'è la salute dell'essere umano bisogna essere seri e centrati a tutti i livelli e questa signora aveva uno stato quasi anasarcatico perché il medico lo sa era piena di liquidi piena il 2 luglio è venuto in studio Davide sei stata a fine giugno in Calabria giusto? il 2 luglio è venuto in studio e al primo posto il test del bulbo mi ha scritto sistema cardiovascolare la signora avete letto è una sulfurica di ostuni calorosa terra di fuoco bugliese a 28 anni ha avuto una grave esperienza emotiva ma nessun medico aveva indagato su quella e quindi le hanno lasciato questa centralità di cuore in squilibrio completo per 20 anni per 20 anni per 20 anni un test biofisico banale ci ha dato questo segnale scusate poi produzione di energia collegata al cuore che vi sta dicendo che vi sta dicendo tanto questo aveva fatto di tutto in andata da medici da internisti da vascolari che cos'è che non aveva fatto in 20 anni immagina una signora che stava bene economicamente quindi responsabile di un negozio in pieno centro realizzata con una figlia che fa l'avvocato a pavia grossi problemi non c'erano nella sua vita contestualizzata una separazione sì ho detto una separazione ma non troppo distanziata ma il problema è iniziato prima guardate 101 sostanze chimiche quindi il fegato completamente intasato vedete qua stress ossidativo 30 lisina glutine andiamo a vedere vedete il circolatorio vedete come è ricco vedete frequenze completamente sballate la signora acidi grassi vabbè io non mi soffermo perché qui non abbiamo molto tempo preferisco farvi vedere questi casi vedete qui post virosi la signora era ulteriormente peggiorata anche dopo le tre dosi di vaccino ok però questo segnale così forte allora io ho chiesto alla signora signora dobbiamo fare un prelievo no dottore per piacere non me lo faccia per piacere perché sono veramente esausta lei è l'ennesimo medico guardate io mi fido di lei però allora dico io vabbè io faccio bioelettronica di folle faccio chinesologia prendo la fiera test dei virus erpetici gli trovo tre virus erpetici attivi e il risultato è questo grazie mille mille dottore sono felicissima di aver fatto il test del bulbo e finalmente dopo vent'anni ho risolto il mio problema già al quarto giorno di dieta le mie gambe si sono sgonfiate la mia pancia e stomaco sono diventati piatti non pensavo che delle intolleranze chiaramente lei ha visto il cambiamento dell'alimentazione ma già aveva fatto dei percorsi non ha capito chiaramente l'importanza della cura integrata potessero dare questi grandi problemi che lei ha saputo risolvere così in poco tempo sinceramente quando sono venuta da lei ora glielo posso dire pensavo fosse l'ennesima dieta è il solito dottore guardate che bruttissima sta frase cioè l'ennesima dieta è il solito dottore cioè il dottore ai miei tempi era la figura più vicina a Dio quando io ho voluto fare il medico è perché ero molto collegato alla mia spiritualità e grazie a Dio lo sono ancora e avevo capito che per avvicinarsi a lui l'unica possibilità era curare il prossimo quando vedete queste frasi questa è una resa questa è una sconfitta scusatemi anche se non siete tutti medici ma siete operatori sanitari questa è una sconfitta scusatemi l'ennesima dieta è il solito dottore che ti dice fai così che sarei meglio ed invece non è così così sono passati vent'anni vabbè incontrato lì potevi incontrare qualche altro comunque ti è andata bene dai questo caso è presente in aula ma non lo diciamo chi è però ci ha onorato di mille chilometri per poter essere presente qua quindi costituzione fosforica irida linfatica di primo grado problema stanchezza cronica psicofisica non documentata dagli esami di laboratorio sistema ormonale emozioni equilibrio microbico intestinale sempre lui metabolismo degli zuccheri ma soprattutto fra gli indicatori i metalli tossici io sono contento che domani abbiamo il grande dottor Montano che ci parla dei danni nelle terre dei fuochi che stanno generando danni addirittura all'energia più potente che all'uomo quella degli spermatozoi domani ne sentiremo delle belle però ahimè anche la mia amata Puglia non è scevra da queste problematiche non è per niente scema scevra scusatemi scema perché perché nel frattempo pensavo ai politici che hanno permesso la distruzione di splendidi territori favorendo le eco-mafie per semplici affari ok sono gli stessi che oggi si candidano e considerate che in questa signorina c'era poi attivo tutto un altro sistema di antiossidanti fra cui vedete in una fosforica quando trovate una carenza di selenio è KO perché il selenio è il minerale più potente per il fosforico così come lo zolfo è il minerale più potente per il sulfurico e quindi ebbè il self-food è ricchissimo di selenio no Giorgio coenzima Q10 stranamente danno mitocondriale metalli tossici danno mitocondriale e chi è il mediatore? chi è il talebano che approfitta dei metalli? si chiama e qui mi ricordo la splendida lezione del dottor Mancini di Roma nel 97 all'università di Cassino dove poi mi regalò al termine della lezione un bel libricino che ancora conservo che si chiama Candida il nemico oscuro che è dentro di noi quando un fosforico va in tossicosi da metalli a livello della barriera intestinale per un discorso di tipo distrofico perché è un catabolico e quindi brucia queste cose noi le insegniamo durante il corso di formazione della scuola di alta formazione sono piccoli concetti ma sono fondamentali se vogliamo sviluppare un modello di medicina antropocentrica e sono caratteristiche che ognuno di noi può cogliere attraverso una altra delle qualità che l'ascolto di se stesso vi impone l'osservazione che hanno dimenticato i medici che non guardano più in faccia neanche i propri pazienti anzi fanno fare tutto dalle segretari o per telefono considerate che io nella mia coerenza mi sono licenziato dalla ASL nel 2015 dopo essere stato portatore di un grande progetto di cure palliative che ha reso il gruppo di cure palliative di Monopoli gruppo pilota a livello di ASL sapete perché mi sono licenziato? perché si sarebbe lavorato di meno perché l'ASL di Bari siccome non voleva pagare le reperività ai medici che facevano reperività in un ospice su 14 paesi praticamente ha deciso solo la reperività telefonica al che io siccome ancora l'anima ce l'avevo integra ho deciso di andarmene considerate che nel frattempo mia moglie lavora in ospice questo per dirvi che in primis bisogna essere coerenti coerenti al proprio viaggio perché solo attraverso questo poi si raccolgono tante informazioni e non è facile rinunciare a uno stipendio pubblico eh neanche poco guardate coenzima Q10 gli omega 3 quindi qua c'è poi vedremo che tipo di omega 3 una neurotossicità e quando voi avete un fosforico il fosforico ha un grande cervello cranico mentre la signora di prima era una sulfurica che è un grande cervello di cuore e quindi al primo posto cardiovascolare è normale che in 20 anni che è infiammata cronica sta signora accumula tossine e non l'abbiamo mai drenata mai cioè non abbiamo fatto quello che ogni giorno fa l'organismo cioè l'organismo ogni giorno è fatto da due fasi simpatico e parasimpatico in cui si attivano delle fasi fra cui la commutazione vegetativa di off che domani di cui domani ne parlerò che sono fondamentali per mantenere il nostro stato di salute e quindi guardate metalli tossici muffa e spore virus vedete lisina virus spesso troverete carenze di lisina con presenza di attivazioni virali ma la lisina è molto importante anche nella sintesi del collagene e nell'attivazione di certi ormoni soprattutto il GH e quando un fosforico è invertito uno dei grossi difetti che è il fosforico è proprio la fase anabolica perché il fosforico è tendenzialmente un catabolico ha una fase anabolica carente se voi dal test del bulbo andate a verificare attraverso queste tracce un deficit della fase anabolica vuol dire che quella persona è svuotata perché se io spendo ma non vado a recuperare e a prima o poi il conto finisce e a questa signorina il conto era finito si è il conto in banca e stava sciupando l'energia ancestrale caro Filippo stava utilizzando tutta l'energia del rene a 37 anni sono le basi preparatorie delle malattie croniche ecco perché questo test è eccezionale in un'ottica di medicina preventiva perché ci fa arrivare prima così salviamo le persone le portiamo su una certa linea e poi ognuno c'è il suo destino noi siamo semplici traghettatori capitiamo nella vita delle persone per caso e quando capitiamo le attraversiamo e quando le attraversiamo se le cambiamo abbiamo fatto un ruolo altrimenti che ci siamo passati a fare e il nostro compito è questo è quello di essere centrati perché l'intuizione va generata solo attraverso un rapporto integro con la propria coscienza il medico l'operatore sanitario in generale ha dimenticato il potere dell'intuizione vedete metalli tossici vedete anche nell'intestino acidi grassi vedete metalli tossici virus muffe e spore anche qui non ragionate solo è chiaro che qua c'è selenio quindi se avete la possibilità poi se avete la possibilità di andare a testare una candida con la fialatest con le frequenze con il Roy Martina con la kinesiologia con le AV con il Vega andatela a testare in questo caso un fosforico in preda a una tossicosi da candida ha soprattutto una neurotossicosi quindi questa signora aveva una neurotossicosi che li portava a un grave deficit dell'energia neurobiologica di cui il fosforico si alimenta il fosforico non è uno stenico non è un biotipo sul furico muriatico come i primi due casi che vi ho fatto vedere il fosforico è uno che consuma molto deve integrare e questo è il messaggio questi sono casi degli ultimi due mesi carissimo dottore per anni ho cercato in tutti i modi e con vari e vari tentativi di capire e risolvere il problema della grave stanchezza psicofisica in alcuni periodi era talmente tanto debilitante da non averne neanche l'energia per alzarmi dal letto avevo bisogno di dormire per ore e ore nonostante tutto recupera lento e mai al 100% dopo il test del bulbo ho finalmente avuto le idee chiare riguarda le cause che mi provocavano tale problema finalmente il quadro è stato più chiaro ho smesso di brancolare nel buio e dopo aver seguito la terapia che mi ha prescritto ho avuto un recupero energetico incredibile anche amici e familiari se ne sono accorti la ringrazio davvero di tutto sono certa che sarà di aiuto a moltissime altre persone grazie ancora in verità in questa signora era già iniziato un percorso di crescita interiore e quando si creano queste trasformazioni soprattutto nei soggetti che sono dotati di una grande centratura neurobiologica proprio quell'energia di cui parlavo prima ci accende carissima dottoressa Quini quando prima parlava dei allarmi ha riacceso vent'anni di studi della mia vita e praticamente si accende una specie di allarme interiore evolutivo che costringe al cambiamento costringe alla trasformazione poi tutto il resto va perseguito va perseguito ecco perché io vi invito proprio a sentirvi dentro questa è una medicina che nasce da dentro da dentro il nostro cervello cranico da dentro il nostro cervello di pancia e soprattutto da dentro il nostro cervello di cuore questo è un caso clinico di una donna in fase meno pausale che ha una grave osteoporosi ma che già è stata approvata la farmaceutica tradizionale e non le ha funzionato e si è affidata a professionisti del settore gli mancava però l'est drive vedete l'est drive cioè nonostante questa donna già facesse 15 integratori guardate mi hanno inviato tutto il materiale da casa il marito lei io ho accettato tutto c'era il bambù so che Eugenio è affezionato al bambù c'erano tanti belli integratori collagene vitamina C mancava qualcosa il bulbo lasciamo stare questo sistema muscolo scheletrico cioè capito c'è dal bulbo muscolo scheletrico c'è un osteoporosi grave l'unico problema che c'è la signora perfetta sportiva in forma peso forma allora visto perché mi sono messo qua secondo voi perché c'è il boro vedete no scherzo boro silicio molibdeno e magnesio cioè più segnali dall'osso che devono arrivare ma perché l'osso continua a mangiarsi questo perché il sistema neuroendocrino è attivato per difendere il corpo e attiva il paratormone in un soggetto di costituzione sul furica che praticamente è una sportiva e che quindi ha un'ampia utilizzazione dell'ossigeno e perché guardate glutine virus 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 vedete cioè perfetto il test vedete l'unica pagina è questa però io non mi sono accontentato di questo ho fatto anche questo ci sono tutte le riattivazioni e bna 790 quindi questa c'ha un'attivazione palindroma di tutti i virus erpetoidi che sono quattro due esocellulari che sono l'herpes e lo zoster due endocellulari linfocitari prevalenti che sono ma anche astrocitari per cui non sottovalutate i danni neurotossici da citomegalovirus e da epsenbar tanto che molti americani hanno addebitato alla sclerosi multipla un'attivazione questa signora ora poi vi porterò il lavoro prossimamente che sto facendo con lei oltre tutti gli integratori buoni che sta prendendo stiamo facendo un lavoro su queste riattivazioni ora sto aspettando la tipizzazione immunitaria perché mi interessa capire come mai in un soggetto così sano c'è questa grave osteoporosi lei nel frattempo gli ho fatto fare anche una mock che mi ha mandato io non l'ho messa qui perché non serviva come dato che ha dimostrato nonostante l'utilizzo di tutti questi integratori è una vita sana da più punti di vista ha dimostrato ancora di più una grave problematica osteoporotica ancora più danneggiante beh pensate che ha 52 anni e vuole continuare a fare vita sana mentre se continua così l'osso è a rischio vedete ho fatto fare anche l'interleuchina 2 però hanno sbagliato cioè 250 euro di esame gli hanno fatto l'interleuchina 6 gli stessi valori di interleuchina 2 e non era questo e comunque vedete l'interleuchina 6 è sotto i 2,7 l'omocisteina è 8,4 lo zoster maggiore di 1.500 l'HSV 46 e soprattutto il citomegalovirus 37 37 quindi tutte riattivazioni la signora non sapeva neanche di aver avuto un contatto con l'ERES ok allora questo invece è un calciatore questo è uno sportivo questo è un calciatore professionista io grazie al dottor Terziani io sono il medico di una squadra di calcio di Lega Pro della mia città del Monopoli grazie a lui per alcuni anni per due anni abbiamo fatto i bulbi in particolar modo si è affezionato al bulbo un calciatore questo è un calciatore molto intelligente peraltro è laureato in scienze motorie che è arrivato a Monopoli dalla primavera del Bari a 19 anni è stato con noi sette anni in questi sette anni gli ho insegnato l'importanza della meditazione veniva a fare yoga nel mio centro l'importanza della nutrizione infatti ha mantenuto delle via sempre con dei valori ottimali poi se volete sono anche alla fine di questa relazione le via ma soprattutto dal bulbo dal primo bulbo eseguito è venuta fuori una grossa informazione vedete resistencias cioè lui era un ragazzo che a 25 anni 24 anni quando abbiamo fatto questo bulbo non aveva un rendimento costante e vedete aver trovato questo microbiota così infatti soffriva di una sintomatologia che è un po' fastidiosa per l'atleta che è la sindrome della valvola io cecale che credetemi per un atleta è molto fastidioso questo ragazzo questi sono i diversi bulbi questo è il training professionale che facciamo cioè questo è per gli atleti vedete la situazione vedete primo posto funghi batteri beh considerate che un atleta si difende perché ha un grosso potenziale beh considerate il bulbo voi dovete sempre partire dal paziente perché il paziente già con la clinica l'anamnesi vi dà un'indicazione se io ho un calciatore professionista ragazzo sano senza malattie ma lui è un performante e quindi per avere performance lo possiamo ottimalizzare e per ottimalizzare beh il dottor Sclausolo che ha seguito il Palermo Calcio sa che cosa significa questo concetto ancora di più tu immagina se a quei tempi di Cavani Pastore di Bala tu avevi a disposizione il test del bulbo capito allora io con questo ragazzo che lavoro ho fatto ho fatto un lavoro specifico cioè ho fatto un lavoro di integrazione nutrizionale integrazionale e i risultati sono stati questi dopo sei mesi non c'era più niente il suo rendimento è migliorato così come è migliorato il rendimento della mia strada di calcio che nel 2019 20 è stato interrotto dal covid ormai una squadra che stava emergendo era a un punto dal secondo posto che era di proprietà del Bari e il Bari è il nostro capoluogo è come se ne so che ne so se il Cesena sta avanti al Bologna no? per farvi un esempio e poi questo dopo quando l'ho ritestato dopo l'estate vedete dopo l'estate che succede? da metalli tossici muffe spore quindi il terreno del ragazzo era un terreno micotico cioè l'indicazione era che se questo si metteva a riposo praticamente si determinava un cambiamento del suo microbiota che per un atleta può essere motivato da più livelli alimentazione poi io quando vado in vacanza capace che vado in un villaggio turistico mangio farine con le muffe ormai non si capisce più niente praticamente queste sono le sue via migliorate nel tempo febbraio gennaio 2022 il rapporto ottimale fra acqua extracellulare l'acqua intracellulare in un atleta deve essere di 2 a 1 a favore dell'acqua intracellulare in un atleta maschio è un altro dato importante è l'angolo di fase che dimostra la reattività esplosiva io il massimo che l'ho portato è stato 7-8-8 ma poi un altro dato importante negli atleti è questo qua è la massa metabolica attiva che nel caso suo rispetto alla massa magra totale era del 66% che è ottimale per prestare una performance perché che cos'è il 66% fondamentalmente? sono i due terzi della massa attiva quindi richiama il rapporto con che cosa? con l'acqua vedi professore l'importanza dell'acqua Giorgio si trova qui in questi dati cioè io agli atleti insegno che se voi avete la giusta acqua proporzionata voi siete più forti il ragazzo si è meritato non un rinnovo del contratto di Monopoli dove a Monopoli lavoriamo con le pezze e Giorgio lo sa perché Giorgio un anno mi ha anche aiutato e devo ringraziarti col self food e l'abbiamo salvata con la squadra perché è stato l'anno del covid che la mia squadra anch'io e io ho preso un grave covid e la mia squadra l'ha preso due volte il covid tutto il gruppo squadra immaginate e Giorgio mi ha aiutato con 200 infordi ti ho regalato anche la magra questo ragazzo invece non ha rinnovato col Monopoli perché perché si è innamorato di lui il Cesena che l'ha voluto acquistandolo dandogli un contratto di 7 volte maggiore e a 27 anni questo ragazzo ha fatto il salto di qualità lo ha fatto grazie al fatto che anche lui ha usato l'intuito da professore di educazione fisica ha capito che non bastava quello che stava studiando ma doveva andare oltre perché non si spiegava il perché lui avesse quei cali di forma vedete che significa essere coerenti essere coerenti significa essere in coscienza e soprattutto garantirsi una grande consapevolezza del vivere che è fondamentale per vivere in salute l'ultimo caso che credetemi non vi abbiamo messo perché so che Giorgio a quest'ora ma avrebbe detto che aveva fame e quindi ne avevo messi 5 prevedendo che vi portavo via un po' di tempo però sinceramente Giorgio questo è un caso recente del 18 agosto il 18 agosto una infermiera dell'ospedale dove lavora mia sorella in reparto di sala operatoria mi ha chiamato perché ha saputo da mia sorella che aveva scoperto il 14 agosto che io facevo il test del bulbo immaginate che uomo non si fa neanche pubblicità in famiglia comunque il 14 agosto sai si passa insieme e ha scoperto questa cosa ha detto Bartolo ma com'è lasci la RSA e si sto facendo questo piccolo viaggio ho trovato un visionario mi sono attaccato vediamo un po' se cambiamo qualcosa e dice e fammi capire e lei da studiosa a 51enne ma mi ha dato una collega coetanea in fase meno pausale questa signora che ha avuto la malattia di questo tempo il long covid capito? ormai tutti c'ha il long covid è vero? e chi è che non ce l'ha? questa ce l'aveva ma questa ce l'aveva veramente questa arrivava a momenti di depressione questa ragazza allora ha detto Lucia ha detto Maria vai vai a Bartolo tanto e io le ho fatto immaginate il 18 agosto il bulbo nel mio giardino stavo nel giardino con mia figlia a giocare è arrivata questa signora col cagnolino il cagnolino sguairà ho detto però non l'avvicinare troppo se no ti dà troppe energie positive una sulfurica e magra con iridematogena sistema ormonale emozioni vedete sonno quindi qua caro Eugenio l'asse intestino cervello è saltato completamente a questa signora e domani ho visto che c'è anche una relazione sull'asse intestino cervello fra le altre a questa signora vedete lo stesso ossidativo 28 cioè non covid come è stato letto come è stato letto dalla medicina ufficiale sono stati dati integratori così tanto per se qualcuno l'ha dato però come un fenomeno da lasciare andare tanto prima o poi passa ma non è così non è così qua stava alterando tutti gli assi di regolazione soprattutto quelli profondi cerebrali che già in una che fa l'infermiera in una in ospedale in sala operatoria scusatemi ma come volete che sono pronti quegli assi che non solo fanno i turni notturni ma anche hanno una fonte di stress notevole perché sono interventi chirurgici spesso d'urgenza peraltro Monopoli è molto trafficata come traffico gli arrivano incidenti stradali e robe varie immaginate che tipo di consumo adrenergico hanno questi sono suotati quindi quando arriva un covid che è stato un covid banale cioè è stato un covid asintomatico però è stato il post covid che ha distrutto vi faccio andare a mangiare se no poi ve la prendete con Giorgio e Giorgio se la prende con me dopo dal 18 agosto l'ho aggiunto l'altra sera credetemi buongiorno dottor Allegrini la volevo aggiornare sulla mia perché io le ho detto fra 20 giorni ci sentiamo perché io di solito dopo una ventina di giorni vedo la volevo aggiornare sulla mia situazione ho fatto il test del bulbo circa tre settimane fa si ricorda mi aveva riscontrato alterazioni su più sistemi cardiovascolari immunitario sonno ormoni insomma avevo quella sindrome non covid quei sindomi i quali vertigini sensazione di annebbiamento pressione alta eccetera e per me che sono infermiera lavorare in queste condizioni stava diventando complicato e niente dopo tre settimane di cura io sono orinata sto bene non credevo si potessero raggiungere risultati così importanti ero come spenta ora è come se il mio organismo si stia resettando vedete i termini usati da un'infermiera mentre quella di Ostuni ha scritto eh ho incontrato l'intollerata perché poi ognuno guarda il suo aspetto come ha detto stamattina anche il dottor Spattini ma noi dobbiamo essere bravi a poter integrare le informazioni di questo test e costruire una sorta di abito a misura del paziente ora è come se il mio organismo si stia resettando stia riprendendo energie comunque questo esame ha detto cose su di me davvero azzeccate ne sono fortemente entusiasta ora attendo una sua conferma per la data del controllo grazie grazie a tutti e buona continuazione